Covid, i nuovi casi in Toscana tornano sopra quota 1200 ma il tasso dei positivi è in netto calo. Prodotti importati dalla Cina in Italia senza pagare l'IVA, perquisizioni anche a Prato. Nomination all'Oscar per i costumi del film Pinocchio, realizzati con i tessuti pratesi. Una buona giornata dalla nostra redazione e ben trovati a nuovo appuntamento con l'informazione di TV Prato. Nuovi casi in aumento rispetto a ieri ma in proporzione ai test eseguiti si registra un netto calo del tasso di nuovi positivi. E' questo in estrema sintesi il quadro che emerge dai primi dati odierni relativi all'andamento dei contagi da Covid in Toscana, diffusi anche oggi in anteprima dal governatore Eugenio Gianni sulla sua pagina Facebook. I nuovi casi sono 1.247 su 23.470 test effettuati. Il numero di nuovi contagi è più alto di ieri, erano 1.106 ma in proporzione è cresciuto meno di quello dei test, per cui il tasso di nuovi positivi è netta flessione e passa dall'8,7% di ieri al 5,31% di oggi. Intanto anche in Toscana è stata sospesa la somministrazione del vaccino AstraZeneca in attesa del pronunciamento dell'EMA. 34.000 le vaccinazioni stoppate nella nostra regione. Sentiamo. Stop alle somministrazioni del siero AstraZeneca anche in Toscana. La sospensione arriva a seguito del blocco stabilito dall'Agenzia Italiana del Farmaco su tutto il territorio nazionale. Una decisione presa in via temporanea e del tutto precauzionale in attesa del pronunciamento dell'Agenzia Europea del Farmaco a seguito di alcuni decessi sospetti. Per la Toscana questo si traduce in un'ulteriore battuta d'arresto di una campagna vaccinale che procede a rilento e tra mille difficoltà. Salvo nuove comunicazioni, vengono così messe in stand-by ben 34.000 prenotazioni su tutto il territorio regionale. Resta da capire come potrà essere completato il ciclo vaccinale per chi ha già ottenuto la prima dose, quasi 15.000 toscani, alla data dello scorso 4 marzo. Con il blocco dell'AIFA potrebbe essere rivisto tutto il piano sanitario, tranne le vaccinazioni degli over 80 e degli estremamente fragili, a cui vengono destinati i sieri Pfizer e Moderna. Intanto sul portale regionale prenotavaccino.sanita.toscana.it è stata attivata la procedura di adesione per gli estremamente fragili, pazienti con malattie importanti o con risposta immunitaria compromessa, e che sono stati indicati dal Ministero della Salute come categoria a rischio. Il canale informatizzato è uno strumento in più per raggiungere chi non è seguito direttamente da una struttura ospedaliera toscana, ma è aperto anche a chi è in cura presso i vari reparti e in attesa di ricevere la chiamata dell'ASL sulla base delle liste compilate dalle aziende sanitarie. Tra chi attende il proprio turno senza avere certezze, ci sono anche 700 confratelli e consorelle del coordinamento Misericordie dell'area Pratese, volontari del trasporto sociosanitario, in gran parte over 65, che svolgono un compito prezioso per la comunità. Sono persone che quotidianamente, con senso di responsabilità, di abnegazione, con senso di appartenenza alla nostra secolare istituzione, operano a favore del territorio. Noi non chiediamo una scorciatoia, chiediamo che i nostri volontari abbiano lo stesso trattamento che è dovuto, e ribadisco dovuto, a tutto il personale sanitario che opera in questa emergenza da Covid-19. E passiamo adesso alla cronaca scoperta dalla finanza una frode carosello per evadere l'IVA su prodotti importati dalla Cina, a perquisizioni anche a Prato e particolari nel servizio di Marco Manzo. La Guardia di Finanza di Firenze ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo diretto e per equivalente di denaro, beni mobili e immobili di due imprese e dei rispettivi amministratori di origine cinesi per un valore di circa 1 milione e 200 mila euro. Ipotesi di reato e frode fiscali su acquisti di merce proveniente dalla Cina. I finanziari hanno effettuato 13 perquisizioni in diverse province italiane, tra le quali anche Prato, e sequestrato veicoli, conti correnti, denaro contante e valori. Le imprese interessate dai provvedimenti hanno sede al Sesto Fiorentino e sono attive nel commercio di capi di abbigliamento e accessori. Gli imprenditori effettuavano ordini dalla Cina, ma invece di essere importata direttamente in Italia, la merce giungeva nell'est europeo, dove veniva sdoganata e successivamente fatturata da alcune società del posto ad una ventina di società stabilite sul territorio italiano, considerate missing trader. Il sistema realizzato anche attraverso l'utilizzo di circa 6 milioni di euro di fatture ritenute soggettivamente false faceva ricadere l'obbligo del pagamento dell'IVA sull'importazione quasi integralmente sulle imprese cartiere che non provvedevano né a versarla né a presentare le dichiarazioni di erediti, variando in alcuni casi la sede per poi divenire del tutto inattive e fallire. Nel corso delle 13 perquisizioni effettuate, come detto, anche a Prato, sono state sequestrate due auto di grossa cilindrata e due furgoni, denaro contante, gioielli e saldi attivi di conti correnti. Nomination all'Oscar per i costumi del film Pinocchio realizzati con i tessuti pratesi e che sono stati in mostra per diversi mesi al Museo del Tessuto. Vediamo. Il film Pinocchio di Matteo Garrone è candidato all'Oscar per i costumi di Massimo Cantini Parrini, una nomination che rende orgogliosa anche la nostra città perché i tessuti usati per realizzare i costumi del film provengono proprio da Prato. D'altronde i pratesi e non solo nei mesi scorsi hanno potuto ammirare la bellezza degli abiti esposti al Museo del Tessuto in una mostra che ha attirato migliaia di visitatori. Per i costumi di Pinocchio Cantini Parrini si è già giudicato il Davide di Donatello che ha poi prestato personalmente al Museo del Tessuto per poterlo esporre durante la mostra. E proprio in quell'occasione il costumista ha ricordato come sia stato prezioso per il risultato l'apporto di Prato. I costumi di Pinocchio sono fatti da moltissimi tessuti presi a Prato. Io lavoro da anni con le ditte pratesi e sono per noi importantissime. Ancora riusciamo a trovare tutto quello che ci serve nella realizzazione dei costumi. Devo dire che forse è l'unico posto dove riesco a campionare e a trovare tutto quello che mi serve sempre. La cerimonia di premiazione degli Oscar si terrà il 26 aprile. E ci spostiamo adesso in provincia. Sono tanti servizi online approntati negli ultimi mesi dal Comune di Carmignano. Tra questi anche gli appuntamenti per l'accesso agli uffici dell'Anagrafe. Tra le richieste maggiori c'è anche quella del rinnovo della carta di identità elettronica. Complice il Covid sono ben 700 i documenti scaduti o in scadenza nel territorio carmignanese. Il Comune di Carmignano spinge sull'informatizzazione e sulla semplificazione dei servizi al cittadino. Una delle principali novità dell'ultimo anno ha riguardato l'introduzione degli appuntamenti prenotati online. Grazie ad una piattaforma a costo zero, dal 30 aprile ad oggi sono stati presi quasi 4.500 appuntamenti per l'accesso agli uffici comunali, di cui 2.276 per i soli servizi demografici. Grande la richiesta per il rinnovo delle carte di identità elettroniche, per le quali l'attesa è di circa due settimane. Sono infatti oltre 700 le carte di identità scadute nel territorio carmignanese, ma per quelle scadute in emergenza Covid la validità è stata prorogata, come in tutta Italia, fino al prossimo 30 aprile. L'ufficio anagrafe del comune di Carmignano potrà presto contare su un nuovo dipendente. Durante il primo lockdown un'unità dell'ufficio servizi anagrafici è andata in pensione e purtroppo a causa del blocco della possibilità di fare nuovi concorsi non siamo stati ancora in grado di sostituirlo. Il primo maggio finalmente arriverà, questo darà la possibilità di raddoppiare l'agenda appuntamenti, quindi saranno serviti esattamente il doppio dei cittadini. Nelle prossime settimane e nei prossimi mesi il comune di Carmignano potenzierà i servizi online dello sportello unico edilizia, interverrà per favorire il radicamento sul territorio dell'identità digitale Speed e sarà presente sulla piattaforma IO con servizi di pagamento e notifiche. Il nostro obiettivo è appunto quello di partire dalla semplificazione e dalla decilizzazione di quello che è il maggior servizio che i nostri cittadini possono furire, quindi dall'anagrafe, lo Stato civile e i servizi demografici. E l'abbiamo fatto pensando di raggiungere dei risultati importanti, cioè riducendo al massimo i tempi di attesa. Guardando al futuro gli obiettivi che ci siamo dati sono quelli ovviamente di mettere in connessione il nostro territorio quanto più possibile e rendere questi servizi il più vicini possibili a tutta la nostra cittadinanza. Passiamo adesso alle previsioni del tempo, come sempre a cura del Consorzio Lamma. Un saluto dalla sala meteo del Consorzio Lamma, le immagini del satellite mostrano ancora una circolazione prevalentemente da est, dall'Europa orientale, che si trasforma in un flusso settentrionale sulla nostra penisola. Per quanto riguarda invece la regione toscana, quest'oggi un cielo irregolarmente nuvoloso con qualche nube tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio, poi in serata spazio per schiarite sempre più ampie a partire dalla costa. Rimangono invece degli addensamenti, soprattutto nel corso del pomeriggio, tra le province di Arezzo, Siena e Grosseto. I venti, come abbiamo detto, in prevalenza da nord, un mare poco mosso sotto costa ma mosso a largo, le temperature senza variazioni di rilievo massime fino a circa 15-16 gradi. Questa è la previsione invece per la giornata di domani, mercoledì, una giornata un po' più chiusa, con qualche nube in più, soprattutto nel corso del pomeriggio. Al mattino gelate, attese su buona parte della regione, soprattutto nelle vallate più interne delle province di Firenze, Arezzo e Siena. Una modesta ventilazione da sud manterrà invece le temperature nei valori massimi, stazionari rispetto a oggi, valori fino a circa 14-15 gradi. Direi che con questo è tutto. Grazie dell'attenzione. E questa era l'ultima notizia, l'informazione di TV Prato torna questa sera alle 20.30. Vi ricordiamo inoltre alle 17, in diretta dal Duomo di Prato, la recita del Rosario e a seguire la Santa Messa. Grazie per averci seguito e arrivederci. Grazie per averci seguito.